buongiorno a tutti amici miei dal nuovo location non più dal mio letto siamo a Sistiana un luogo turistico qui vicino due passi da Trieste o dire bellissima giornata di sole o sole mio quando abbiamo il maestro costuta chiedevo il maestro con un diviso e candone ma non ci canta ci sono quel pianoforte se ci sono bellissimo non riusciamo a portare il pianoforte qui perché se no aiuto aiuto amici miei vi ricordo la prima serata è il 10 no maestro come lei? no il 3 è il primo ecco qui ciao a tutti si quando inizia il primo iniziato prossimo evento il 3 dicembre in teatro a Monfalcone con coro Ediforza di Staranzano coro Sant'Ambrogio di Monfalcone che festeggia i 50 anni e coro Gruppo Corallo Elianico di Fogliano Re di Puglia diretti dalla maestra Fanca Zanolla ci sarò io al pianoforte mi raccomando venire prima chi primo arriva meglio alloggia quindi non arrivare 20 e 30 ma magari cenare prima o cenare dopo al limite e quindi intorno alle 19 e mezza 20 essere già in teatro mi raccomando vi aspettiamo dobbiamo riempirlo e poi il 10 al calcio in corso per la serata dedicata a Maurizia Ravelle bene 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 sono contento così il maestro ci ha diriziato dei due appuntamenti a queste date stiamo parlando di progetti nuovi dal 2023 vedrete bene sorprendere non vi dico altro anzi non vi spolvero come dicono i youtuber buon amici miei vi auguro una buona giornata buon pomeriggio buona serata divertitevi sperando di essere arrivato il caldo ma stamattina sono a 6 gradi adesso non so quanti gradi sarà maestro decine di gradi boh si sta bene dai forse coraggio facciamo la camminatina qua facciamo una prendiamo un po' di aria l'aria aria salmata per l'inverno iniziamo a mangiare aranci vitamine c mangiamo frutta verdure di stagione sarebbe mangiare la famosa 12 gradi qua adesso ci dice fare esattezza mangiamo la rossa di corizia ma chi ha i soldi la rossa di corizia neanche il panino il pane duro lo riusciamo a mangiare con questi tasti qua tutto quegli aumenti boh amici miei vi auguro una buona serata vi saluto il maestro e vi auguro una buona serata vi ricordo sempre iscrivetevi franco torto su youtube e vi auguro buon 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 weekend io sarò a riposo perché lunedì ho la giornata stra piena e sperando che ricordo anche di queste date dopo ci sta il 9 inizia la mostra di nunziante nella galleria moderna a Mufalcone venite anche questo merito a vedere e poi tante altre iniziative della città di Mufalcone concertone, concerti vari eccetera eccetera venite 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 questa è la pubblicità mi raccomando fate i bravi iscrivetevi vi saluto a Tiziana, Ivana, carissimi amici del Brasile, Argentina soprattutto il maestro Merino, il maestro Tito Nutt, tutte le altre persone che seguono il maestro che mi seguite vi voglio una buona serata e vi voglio bene saluto anche tutti voi i miei colleghi miei colleghi i miei colleghi non ci sono più che lavorano più che ci sono licenziati vi auguro una buona 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 buon lavoro e buona fortuna per il prossimo lavoro che fate o che fate fate già facendo un bacione forte e a presto vi mi raccomando fate i bravi iscrivetevi franco controllo su youtube ciao